Non si era mai verificato da quando l'ospedale di Cattinara è stato inaugurato nel 1983 che le torri restassero senza letti disponibili. E' accaduto ieri alle 13, giorno in cui al pronto soccorso vi erano 50 pazienti, 20 dei quali da ricoverare in attesa che si liberasse appunto un letto qualsiasi. Molte dunque le urgenze rimaste come dire ferme in pronto soccorso. Una situazione proseguita anche durante la notte con nessun letto disponibile. La direzione dell'azienda sanitaria universitaria integrata contesta i dati forniti dalle rappresentanze sindacali ma ammette l'esistenza di un problema temporaneo. Vi sono stati accessi numerosi ma sottolineano da via SAI con la collaborazione di tutte le realtà interessate. La questione che si ripete un po' in tutta Italia è stata risolta.